L'onorevole Lollobrigida ne ha facoltà, a lei l'onorevole Lollobrigida. Grazie Presidente, io ho chiesto più volte, nonostante la nostra forza politica, io personalmente riteniamo il Green Pass uno strumento inutile, avremo modo di discutere e quindi non entro nel merito, che però le regole che vengono applicate ai cittadini italiani fossero applicate pedisseguamente ai parlamentari della Repubblica, che sono dei rappresentanti del popolo, hanno delle garantigie, ma non devono avere dei privilegi. Siccome mi sembra scontato che in quest'Aula, quando esistono in questi metri di padri, centinaia di parlamentari che risultano presenti debba applicarsi la stessa norma che per gli assembramenti fuori da quest'Aula, vorrei sapere formalmente e pregiudizialmente all'inizio dei lavori se la Presidenza ha ritenuto opportuno chiedere ai parlamentari per l'ingresso in Aula il Green Pass o ritiene invece che il privilegio di essere esentati da uno strumento imposto alla nostra gente sia una cosa corretta. Quindi, come ho letto le parole del Presidente Fico, invece dire che i parlamentari non seguono le regole degli altri cittadini, vorrei capire se qui dentro stiamo seguendo le regole degli altri cittadini oppure uno specifico privilegio di Fratelli Italia non riteniamo sia...